Circa 300 persone si sono radunate ieri sera nella zona del passo della Presolana per protestare contro l'annunciato arrivo di altri migranti presso l'hotel Spampatti. Non sono mancati i momenti di tensione quando il corteo ha raggiunto la struttura e il gestore ha reagito alle provocazioni della gente lanciando sulla folla tazzine da caffè e bicchieri di vetro. Non ci sono stati comunque feriti e la presenza dei carabinieri ha permesso di tenere sotto controllo la situazione. Poco dopo le 21 i manifestanti hanno occupato la strada con sdraio e panchine ostacolando il passaggio delle vetture che è stato comunque garantito. Il presidio è proseguito fino a tarda sera. Uno dei promotori, Giovanni Migliorati, Giovanni di Bratto, ha dichiarato a Lico di Bergamo che il ritrovo è stato organizzato per far sentire la voce di semplici cittadini slegati da partiti politici. La prima fonte di reddito per il comune di Castione è il turismo e dopo i primi 56 migranti ospitati a Villa Jesus adesso vogliamo dire basta. Il passo è una zona tranquilla frequentata in estate da molti turisti, in prevalenza famiglie, bambini e donne. Giovanni Migliorati ha inoltre annunciato per oggi un'ulteriore mobilitazione in piazza a Castione. Intanto il sindaco Angelo Migliorati, che non era presente al presidio di ieri sera, ha inviato un'altra lettera alla prefettura di Bergamo in cui ribadisce la contrarietà della sua amministrazione all'arrivo di altri migranti in paese. Ha ribadito che nel comune che rappresenta sono ospitati 56 migranti su una popolazione di 3416 persone, una percentuale cinque volte maggiore di quanto previsto dal protocollo d'intesa governo ANCI. Aveva chiesto e si sarebbe aspettato dalla prefettura l'esclusione del comune di Castione dai bandi di servizio accoglienza migranti, come peraltro avvenuto lo scorso anno. Era l'unico modo per rispettare un'indicazione dello stesso ministero degli interni e per non incrementare ulteriormente il numero di migranti gravante su questo comune. Così però non è stato. Il sindaco sottolinea inoltre il grande disagio e la grande rabbia della popolazione che potrebbe essere difficilmente controllabile.